Buongiorno Fagnano, eccoci con il consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con i dati della popolazione, un po' in ritardo perché siamo a maggio, del mese di marzo. La popolazione è di 12.480 abitanti, nel mese di marzo sono morte 7 persone e sono nati 5 bambini. Sentite condolianze a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari e un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati e un augurio a tutte le nuove famiglie di Fagnano. Partiamo subito con gli eventi della settimana, domani 7 maggio alla Sala Cammino del Comune di Fagnano Lona, organizzata da Proloco, prosegue la mostra Paint Rock, apertura alle ore 15 e le dalle 18 il DJ set curato da Fonica School. Per quanto riguarda la situazione ucraina, innanzitutto bisogna dire che due persone sono tornate nella loro patria, mentre domenica, organizzata dall'Associazione Negozianti Fagnanesi presso l'area feste e è stata spostata alla location per motivi meteorologici, si terrà il pranzo di benvenuto a tutte le persone che arrivano da quella nazione in guerra. Mentre sempre domenica era prevista la festa di primavera presso Calipolis, questa festa non si terrà anche questa per motivi meteorologici, ma è rimandata a domenica 15 maggio. Mercoledì 11 alle ore 9 presso Calipolis la festa degli alberi. Invece settimana prossima parte la prima settimana tema organizzata dall'amministrazione comunale, dedicata al tema dei social, dal titolo per un pugno di like. Mercoledì sera alle ore 20 e 30 presso l'aula Benvenuto Piazza, di Piazza Alfredo di Dio presso le scuole medie, si terrà il primo incontro con la Polizia Postale. Prima di chiudere il video è doveroso dire una cosa, domenica è la festa della mamma, va un augurio e un abbraccio a tutte le nostre mamme di tutta Fagnano e di tutta Italia a questo punto. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video.